Ciao a tutti ragazzi di questo nuovo video, sono AmeriDragostrickTV, eccoci qua ragazzi in un video breve perché finalmente la Supercell ha annunciato oggi 30 aprile il primo sneak peek riguardo al prossimo aggiornamento che avremo nei primi del mese prossimo. Finalmente ragazzi, come già anche aveva annunciato, avremo la possibilità di vedere in live le partite amichevoli nel clan. Finalmente ragazzi partite in diretta e sarà molto molto figa come cosa per quando ad esempio andremo a fare dei piccoli tornei nei nostri clan. Finalmente ragazzi dunque partita in diretta e vedete lì sopra ci sarà quindi un quadratino nella quale vedremo quindi il tempo rimanente e ovviamente ci sarà il bottoncino live e ragazzi piccola novità avremo la possibilità di vedere quante persone effettivamente stanno visualizzando l'attacco in live dove c'è quel occhiolino e il numerino. Molto figa come cosa, inoltre ragazzi avete visto che all'inizio della battaglia le carte erano nascoste, c'erano i punti di domanda. Ovvia come cosa, altrimenti uno potrebbe non so ad esempio contattare privatamente l'altro giocatore magari in maniera vocale e dirgli praticamente che carte ha il nemico. Quindi è ovvio che la battaglia comincerà per chi sta guardando quindi la partita in live con le carte nascoste. Ottima cosa dunque dalla parte della Supercell. Un'altra cosa molto divertente che hanno inserito ragazzi della Supercell nelle dirette delle partite amichevoli sono praticamente quei coni vicino alle nostre corone. Sulla destra come state guardando ci sono quei coni oppure Wusiela non so come chiamarli che praticamente potremmo schiacciare per tifare il nostro giocatore. Quindi ragazzi ad esempio se premiamo sul cono blu ad esempio butterà dei piccoli coriandoli sul campo di battaglia. E ragazzi il giocatore potrà veramente guardare questa cosa in live e vedrà quindi coriandoli buttati nel proprio campo di battaglia. Si potranno anche ragazzi premere entrambi. Molto figa ragazzi come cosa, una idea veramente geniale e anche molto molto divertente. Dunque per quanto riguarda le battaglie amichevoli live in diretta è tutto quanto. Adesso vi dirò anche un'altra novità da parte della Supercell. Terminiamo un attimino riguardo a questo live delle amichevoli dicendo che sarà molto appunto come dicevo prima molto interessante. Dunque adesso avviare dei tornei veri e propri nei nostri clan. Quindi sarà anche molto molto più semplice per chi andrà ad esempio a gestire il torneo stesso. Io ragazzi farò appunto questa cosa nel clan e quindi vediamo un po' che cosa riesco a combinare. Quindi mi raccomando non mancate nei prossimi giorni vedremo un pochino. Vedrò di sfilare qualche piccolo regolamento. Andrò dunque a dare maggiori informazioni riguardo a questa cosa. Passiamo adesso invece ragazzi alla TV Royale. L'altra novità della Supercell. E infatti finalmente ragazzi potremo vedere le sfide in tutte le arene. Finalmente cosa molto interessante è poter dunque vedere i migliori replay in tutte le arene del gioco. Molto molto figa come cosa. Dunque non vedo l'ora di vedere un po' di replay. Come si comportano i giocatori nelle arene più basse. Dunque anche io visto che ho creato un nuovo account e presto vi portare ragazzi un nuovo video riguardo a questo. Vedrò ragazzi di riuscire ad apparire nella TV Royale dato che sono praticamente in arena numero 3. Dunque ragazzi per questo sneak peek è tutto. Come sapete la Supercell ha anche inserito, ha già annunciato direttamente nel gioco, nelle notizie. Ciò che avremo anche per quanto riguarda alcune strutture, alcuni cambiamenti eccetera eccetera. Trovate tutto comunque direttamente nel gioco, nelle tab delle notizie. E dunque noi ci vediamo domani con un nuovo sneak peek e anche ragazzi con un nuovo video deck. Ci vediamo quindi ragazzi domani, non mancate mi raccomando, lasciate un like per supportare il canale e Clash Royale. E ci vediamo dunque domani ragazzi con un nuovo video. Ciao ragazzi.